Ma che urli se sono qua a fianco a te Non t'avevo vista Che vuoi? Voglio aprire bustine Smettila Vai sotto al letto di Daina che c'è una collezione Apri quella Sotto il letto Aiuto Aiuto Sono giù Ma giù dove? Ma dove guardi Ma che succede qui? Sono ferita Sto per morire No Morire no Chiamo il dottore Ma io a quest'ora Dottore Ma che ci fa qua? Io sono brutto perché avete chiamato voi no? Noi Dottore finalmente è arrivato Sam è il mio amico